Oggi è la festa del papà, io ho preparato tante zeppole, fritte, al fondo, perché tu poi in fondo un poco sei il mio papà, tutti mi domandano ma è il tuo padre, ma è il tuo padre, ma è il tuo padre. Sì, sì, poco a poco, ma non più di tanta. Comunque delle zeppole che mi hai preparato, questa è la migliore, la zeppola di Ossiman. È da mercoledì sera che mi sta facendo due perché O Napoli, Ossiman, guardavo la partita, è stasiato, sorridente, un po' di vano. Io spero che vi sarà un po' diventato antipatico a voi che non siete tifosi del nostro. Sì, indubbiamente, tenevamo antipatico ai giovedini, gli interissimi, nei silenziali, però forza Napoli. Buona domenica, buona festa del papà, auguri!